U U Ho io scritto questa lettera terribile, questa vocale spaventosa. L'ho io delineata esattamente. L'ho io tracciata in tutta la sua esattezza tremenda, coi suoi profili fatali, con le sue due punte detestate, con la sua curva abborrita. Ho io ben vergata questa lettera, il cui suono mi farà brividire, la cui vista mi riempie di terrore. Sì, io l'ho scritta, ed eccovela ancora. U Eccola un'altra volta. U Guardatela, affissatela bene, non tremate, non impallidite. Abbiate il coraggio di sostenerne la vista, di osservarne tutte le parti, di esaminarne tutti i dettagli, di vincere tutto l'orrore che vi ispira. Questo U, questo segno fatale, questa lettera abborrita, questa vocale tremenda. E l'avete ora veduta? Veduta? Ma che dico? Chi di voi non l'ha veduta, non l'ha scritta, non l'ha pronunciata le mille volte? Lo so, ma io vi domanderò bensì chi di voi l'ha esaminata? Chi l'ha analizzata? Chi ne ha studiato la forma, l'espressione, l'influenza? Chi ne ha fatto l'oggetto delle sue indagini, delle sue occupazioni, delle sue veglie? Chi vi ha posato sopra il suo pensiero per tutti gli anni della sua vita? Perché voi non vedete in questo segno che è una lettera mite, innocua, come le altre? Perché l'abitudine vi ci ha resi indifferenti? Perché la vostra apatia vi ha distolto dallo studiarne più accuratamente i caratteri, ma io, se voi sapeste ciò che io ho veduto, se voi sapeste ciò che io vedo in questa vocale, U. E consideratela ora, Meco, guardatela bene, guardatela attentamente, spassionatamente, fissi. E così, che ne dite? Quella linea che si curva e si inforca, quelle due punte che vi guardano immobili, che si guardano immobili, quelle due lineette che ne troncano inesorabilmente, terribilmente le cime, quell'arco inferiore sul quale la lettera uscilla e si dondola, sogghignando, e nell'interno quel nero, quel vuoto, quell'orribile vuoto che si affaccia all'apertura delle due aste e si ricongiunge e si perde nell'infinito dello spazio. Ma ciò è ancora nulla. Coraggio, raddoppiate la vostra potenza di intuizione, gettatevi uno sguardo più indagatore. Partite da una delle due punte, seguite la curva esterna, discendete, avvicinatevi all'arco, passatevi sotto, risalite, raggiungete la punta opposta. Che cosa avete veduto? Attendete, compite adesso un viaggio a rovescio, discendete lungo la linea interna, discendetevi con coraggio, con energia, raggiungete il fondo, arrestatevi, fermatevi un istante, esaminatelo attentamente, poi risalite fino alla punta ad onde eravate partito da prima, tremate, impallidite, non basta ancora, posatevi un istante sulle due linee che ne tagliano le punte, andate dall'una all'altra, poi guardatela assieme della lettera, guardatela ad un sol colpo d'occhio, esaminatene tutti i profili, afferratene tutta l'espressione, e ditemi se non siete paralizzati, se non siete vinti, se non siete annichiditi, da questa vista, ecco, io vi scrivo qui, tutte le vocali, A, E, I, O, U, ne vedete? Sono queste, A, E, I, O, U, ebbene, ma non basta vederle, sentiamone ora il suono, A, l'espressione della sincerità, della schiettezza, d'una sorpresa, lieve, ma dolce, E, la gentilezza, la tenerezza espressa tutta in un suono, I, che gioia, che gioia viva e profonda, O, che sorpresa, che meraviglia, ma che sorpresa grata, che schiettezza, rosa, ma maschia in quella lettera, sentite ora la U, pronunciatelo, traetelo fuori dai precordi più profondi, ma pronunciatelo bene, U, 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 Prabrividite, non tremate a questo suono, non vi sentite il ruggito della fiera, il lamento che emette il dolore, tutte le voci della natura sofferente e agitata. Non comprendete che vi è qualcosa di infernale, di profondo, di tenebroso in quel suono. Dio, che lettera terribile, che vocale spaventosa. Vi voglio raccontare la mia vita. Voglio che sappiate in che modo questa lettera mi ha trascinato ad una colpa, ad una pena ignominiosa e immeritata. Io nacqui predestinato. Una terribile condanna pesava sopra di me, fin dal primo giorno della mia esistenza. Il mio nome conteneva un U. Da ciò tutte le sventure della mia vita. A sette anni fui avviato alle scuole. Un istinto, di cui ignorava ancora le cause, mi impediva di apprendere quella lettera, di scriverla. Ogni volta che mi si facevano leggere le vocali, mi arrestava, mio malgrado, dinnanzi all'U. Mi veniva meno la voce. Un panico indescrivibile si impossessava di me. Io non potevo pronunciare quella vocale. Scriverla. Era peggio. La mia mano, sicura nel vergare le altre, diventava convulsa e tremante allorché mi accingeva a scrivere questa. Ora le aste erano troppo convergenti. Ora troppo divergenti. Ora formavano un V dritto. Ora un V capovolto. Non poteva tracciare in nessun modo la curva e spesso non riusciva che a formare una linea serpeggiante e confusa. Il maestro mi dava del quadrello sulle dita. Io mi inacerbiva e piangeva. Aveva dodici anni, allorché un giorno vidi scritto sulla lavagna un U colossale. Così. U. Io stavo seduto di fronte alla lavagna. Quella vocale era lì e pareva guardarmi, pareva affissarmi e sfidarmi. Non so qual coraggio mi nascesse improvvisamente nel cuore. Certo, il tempo della rivelazione era giunto. Quella lettera ed io eravamo nemici. Accettai la sfida. Mi posi il capo tra le mani e incominciai a guardarla. Passai alcune ore in quella contemplazione. Fu allora che io compresi tutto, che io vidi tutto ciò che vi ho ora detto. Ho tentato almeno di dirvi, perché il dirvelo esattamente è impossibile. Io indovinai le ragioni della mia ripugnanza, del mio odio, e progettai una guerra mortale a quella lettera. Mi cominciai col togliere quanti libri poteva a miei compagni e cancellarvi tutti gli U che mi venivano sott'occhio. Non era che il principio della mia vendetta. Fui cazzato dalle scuole. Vi ritornai tuttavia, più tardi. Il maestro si chiamava Aurelio Tubuni. Tre U. Io lo abborriva per questo. Un giorno scrissi sulla lavagna. Morte all'U. Egli attribuì a semedesimo quella minaccia. Fui ricacciato. Ottenne ancora di tornarvi una terza volta. Presentai allora, come lavoro di esame, un progetto relativo all'abolizione di questa vocale, alla sua espulsione dalle lettere dell'alfabeto. Non fui compreso. Fui tacciato di follia. I miei compagni, conosciuta così la mia avversione a quella vocale, incominciarono contro di me una guerra terribile. Io vedeva. Io trovava degli U da tutte le parti. E se ne scrivevano dappertutto. Sui miei libri, sulle pareti, sui banchi, sulla lavagna. I miei quaderni, le mie carte ne erano pieni. E io poteva difendermi da questa persecuzione sanguinosa ed atroce. Un giorno trovai nella mia saccoccia una cartolina, su cui ne era scritta una lunga fila, in questo modo infernale. Così. U. 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 Divenni a furente. La vista di tutti quegli u disposti in questa guisa, collocati con questa gradazione tremenda, mi trasse di senno. Sentii salirmi il sangue alle tempie, sconvolgersi la mia ragione. Corse alla scuola ed afferrato alla gola uno dei miei compagni, ne avrei per fermo soffocato, se non mi fosse stato tolto di mano. Era la prima colpa a cui mi trascinava quella vocale. Mi fu impedito di continuare i miei studi. Allora incominciai a vivere da solo, a pensare, a meditare, ad operare da solo. Entrai in una nuova sfera di osservazioni, in una sfera più elevata, più attiva. Studiai rapporti che legavano ai destini dell'umanità questa lettera fatale. Ne trovai tutte le fila, ne scopersi tutte le cause, ne indovinai tutte le lezzi, e scrissi ed elaborai in cinque lunghi anni di fatica un lavoro voluminoso, nel quale mi proponeva di dimostrare come tutte quelle umane calamità non procedessero da altre cause che dall'esistenza dell'U e dall'uso che ne facciamo nella scritturazione e nel linguaggio. E come fosse possibile sopprimerlo e rimediare e prevenire i mali che ci minaccia? Lo credereste? Non trovai mezzo di dare alla luce la mia opera? La società ricusava da me quel rimedio che solo poteva ancora guarirla. A vent'anni mi accesi d'amore per una fanciulla e ne fu di amato. Essa era divinamente buona, divinamente bella. Ci amammo al sole vedersi, e quando potei parlarle le chiesi, come vi chiamate? Ulrica? Ulrica. U. Un U. Era una cosa orribile, ma come sottomettermi alla violenza atroce continua di quella vocale? Il mio amore era tutto per me, ma non di meno trovai la forza di rinunziarvi. Abbandonai Ulrica. Tentai di guarirmi con un altro affetto e ad il mio cuore ad un'altra fanciulla. Lo credereste? Seppi più tardi che si chiamava Giulia. Mi divisi anche da quella. Ebbi un terzo amore. L'esperienza mi aveva reso cauto. Mi informai del suo nome prima di darle il mio cuore. Si chiamava Annetta. Finalmente! Apprecchiamo per le nozze. Era tutto combinato, stabilito, allorché, nell'esaminare il suo certificato di nascita, scopersi con orrore, che il suo nome di Annetta non era che un vezzeggiativo, un abbreviativo di Susanna. Susannetta! E oltre ciò, inorridite, aveva cinque altri nomi di battesimo. Postumia, Uria, Umberta, Giuditta e Lucia. Immaginate se io mi sentissero brividire nel leggere quei nomi. Lacerai sull'istante il contratto nuziale, rifacciai a quel mostro di perfide il suo tradimento feroce, e mi allontanai per sempre da quella casa. Il cielo mi aveva ancora salvato. Ma, oimè, io non poteva più amare. La mia affettività era esaurita, prostrata da tanti esperimenti terribili. Il caso mi ricondusse ad Ulrica. Le memorie del mio primo amore si ridestarono. La mia passione si riaccese più viva. Volli rinunciare ancora al suo affetto, alla felicità che mi riprometteva da questo affetto. Ma non ne ebbi la forza. Ci risposammo. Da quell'istante incominciò la mia lotta. Io non potevo tollerare che essa portasse un U nel suo nome. Non poteva chiamarla con quella parola. Mia moglie, la mia compagna, la donna amata da me, portare un U nel suo nome. Essa che aveva già fatto un acquisto così tremendo nel mio, perché io pure ne aveva uno nel mio casato. Era impossibile. Un giorno le dissi, mia buona amica, vedi quanto quest'u è terribile. Rinunciavi, abbrevia o muta il tuo nome. Te ne scongiuro. Essa non rispose e sorrise. Un'altra volta le dissi, Ulrica, il tuo nome mi è insopportabile. Esso mi fa male. Esso mi uccide. Rinunciavi. Mia moglie sorrideva ancora, l'ingrata. Sorrideva. Una notte mi sentì invaso da non so qual furore. Aveva avuto un sogno affannoso. Un U gigantesco. Postosi sul mio petto. Mi abbracciava con le sue aste immense, flessuose. Mi stringeva. Mi opprimeva. Mi opprimeva. Io balzai furioso dal letto. Ferrai la grossa canna di giunco. Corsi da un notaio e gli dissi. Venite. Venite, meco, sull'istante a redigere un atto formale di rinuncia. Quel miserabile si opponeva. Lo trascinai, meco. Lo trascinai al letto di mia moglie. Essa dormiva. Io la svegliai aspramente e le dissi. Oh, Rica. Rinuncia al tuo nome. Allù detestabile del tuo nome. Mia moglie mi guardava fissamente e taceva. Rinuncia. Io le replicai con voce terribile. Rinuncia a quel lù. Rinuncia al tuo nome abborrito. Essa mi guardava ancora e taceva. Il suo silenzio e il suo rifiuto mi trassero di senno. Mi avventai sopra di lei e la percossi col mio bastone. Fui arrestato e chiamato a render conto di questa violenza. I giudici, assolvendomi, mi condannarono a una pena più atroce. Alla detenzione in questo spizio di pazzi. Io pazzo, sciagurati. Pazzo. Perché ho scoperto il segreto dei loro destini. Dell'avversità dei loro destini. Perché ho tentato di migliorarli. Ingrati. Sì. Io sento che questa ingratitudine mi ucciderà. Lasciato qui, solo. Inerme. Faccia a faccia col mio nemico. Con questo U detestato. Che io vedo ogni ora, ogni istante, nel sonno, nella veglia, in tutti gli oggetti che mi circondano. Sento che dovrò finalmente soccombere. Sia. Non temo la morte. L'affretto, come il termine unico dei miei mali. Sarei stato felice se avessi potuto beneficare l'umanità persuadendola a sopprimere quella vocale. Se essa non avesse esistito mai. O se io non ne avessi conosciuto i misteri. Era stabilito altrimenti. Forse la mia sventura sarà un utile ammaestramento agli uomini. Forse il mio esempio li spronerà ad imitarmi. Che io lo speri. Che la mia morte preceda di pochi giorni. L'epoca della loro grande emancipazione. Dell'emancipazione dall'U. Dell'emancipazione da questa terribile vocale. Infelice che vergò queste linee morì nel manicomio di Milano. L'undici settembre mille ottocento sessantacinque.